ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video quest'oggi vi andrò a presentare il tutorial di chai che vediamo qui alle mie spalle gli autori di questo gioco sono dan e conny katzmaier ed edito in italia grazie alla little rocket games in questo gioco saremo dei mercanti di te che dovranno cercare di esaudire più richieste possibili dei loro clienti che quindi gli faranno richieste con te diversi con aromi differenti è un gioco che può essere giocato da uno a cinque giocatori ed è consigliato dagli otto anni in su ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere subito il tutorial quindi andiamo subito a vedere il setup di gioco ogni mercante di te quindi ogni giocatore seleziona una casa da te corrispondente al proprio tipo di te a quel punto riceve i sei segnalini te del colore corrispondente alla casa del te e li posiziona accanto alla sua plancettina casa del te tutte le altre plancette vengono rimesse nella scatola ogni giocatore poi riceve le otto carte clienti che corrispondono al proprio colore del te ne sceglie una che metterà scoperta accanto alla sua plancettina casa da te a quel punto ne sceglierà una seconda che metterà scoperta al centro dell'area di gioco e quelle carte così creeranno il pool clienti le sei restanti carte quindi qui nell'esempio a due giocatori saranno 12 carte verranno mescolate insieme formando un unico mazzo e da questo mazzo poi ne verranno pescate altre due che verranno messe accanto alle carte precedenti che abbiamo messo a formare il pool dei clienti quindi in questo caso a due giocatori ci ritroveremo con quattro carte scoperte il restante mazzo verrà messo coperto accanto a queste carte andiamo a prendere poi il sacchetto aroma dal te con tutte le 72 tessere aroma te e dopo averle mescolate ne prendiamo una alla volta e andiamo a riempire ogni riga della plancia mercato partendo da sinistra verso destra dopo aver riempito la plancia mercato come mostrato andiamo a mettere un segnalino dispensa di ogni tipo sulla plancia dispensa quindi avremo un segnalino miele uno latte uno zucchero uno vaniglia e uno spezie ciai li mettiamo qui nella dispensa i restanti segnalini andranno messi nell'apposito sacchetto che metteremo accanto all'area di gioco idem faremo con il sacchetto degli aromi da te quindi ci ritroveremo avere accanto all'area di gioco i due sacchetti mescoliamo poi le otto carte abilità e le andiamo a posizionare accanto al pool dei clienti farò spazio in questa zona anche se non vedrete più i sacchettini ma li metto così che un po si vedono sappiamo che sono accanto all'area di gioco mettiamo il mazzo di queste carte abilità e ne scopriamo tre queste saranno le tre carte abilità che si potranno utilizzare qui non si vedono le metto in maniera che siano visibili tutte e tre posizioniamo poi accanto sempre accanto all'area di gioco le tazze da te in base al numero di giocatori quindi in questo esempio a due giocatori avremo due tazze da te prendiamo poi sei segnalini mancia e dopo averli mescolati ne andiamo a mettere due coperti quindi non visibili di fronte a ogni tazza gli altri li andremo a mettere sempre coperti accanto all'area di gioco andiamo poi a posizionare il termometro segna round accanto alle tazze da te e posizioniamo la clip sullo zero a questo punto come dice il regolamento inizia il primo giocatore che è colui che ha bevuto più recentemente una tazza da te a questo giocatore viene dato il segnalino primo giocatore facciamo sempre qui e gli viene dato una moneta di rame mentre a tutti gli altri giocatori in questo caso siamo in due quindi al secondo giocatore viene data una moneta d'argento tutte le altre monete rimanenti vengono messe sulla plancia dei soldi che è questa plancetta qui quindi metteremo tutto i soldi rimanenti qui e iniziando dal primo giocatore si procederà poi in senso orario siamo pronti a iniziare una partita a chai il gioco si svolge in cinque round con il termometro utilizzato come ho detto come indicatore di round quindi partiamo dal da zero da zero gradi un round è completo quando tutte le tazze da te sono riempite con un ordine il che può richiedere più turni in un turno ogni giocatore sceglie una delle seguenti tre azioni prima di evadere facoltativamente un ordine la prima azione è visitare il mercato la seconda azione visitare la dispensa la terza azione e prenotare un cliente e usare abilità come detto in ogni turno si può scegliere una sola di queste tre azioni alla fine di queste tre azioni facoltativamente un giocatore può evadere un ordine vediamo quindi subito nel dettaglio la prima azione che è visitare il mercato questa azione mi permette di comprare tessere a roma da te che sono necessarie per completare la maggior parte degli ordini un giocatore bene sapersi che non può mai avere più di 12 tessere a roma nella propria casa da te infatti come possiamo vedere ci sono 12 caselle nel caso si ritrovasse ad averne più di 12 deve scartarne immediatamente quelle in eccesso per acquistare aromi da te il giocatore dichiara la propria intenzione di visitare il mercato a quel punto riceve subito una moneta da tre quindi una moneta d'oro che è la moneta che rappresenta i soldi guadagnati quel giorno vendendo te ai commercianti del mercato a questo punto almeno una tessera chiedo scusa almeno una moneta di rame quindi una moneta di valore 1 deve essere spesa nel mercato ma non c'è il limite al numero di tessere acquistabili le tessere a roma da te si acquistano in questa maniera possiamo andare a prendere una tessera a nostra scelta in qualunque zona del mercato quindi che sia presa in alto in basso a sinistra a destra al centro dove vogliamo noi andremo a pagare il costo lo vediamo qui in alto quindi la prima colonna costerà una moneta quindi una moneta di valore 1 una moneta di rame la seconda e terza colonna costerà una moneta d'argento quindi una moneta di valore 2 mentre la quarta quinta e sesta colonna costerà una moneta d'oro o il valore di tre monete però cosa succede quando noi andiamo a prendere una tessera a roma da te in cui adiacente ce n'è un'altra uguale adiacente o orizzontalmente o verticalmente mai in diagonale andremo a prendere tutte e due quelle tessere quindi in questo caso se ne andiamo a prendere questa a sinistra prenderemo anche questa a destra tutte e due però cosa succede quindi faccio l'esempio che avevamo questa disposizione in questo caso se decido di prendere questa tessera a roma di menta essendo che ci sono queste tre le andrei a prendere tutte e tre vado però a pagare il costo massimo dove si trova l'ultima tessera a destra quindi in questo caso per prendere queste tre tessere non pagherò il valore della prima che prendo che è una moneta d'argento ma pagherò il valore di una moneta d'oro quindi il valore di tre monete prenderò quindi le mie tre tessere le andrò a mettere nella mia casa da te e a questo punto farò scivolare le tessere rimaste nello spazio vuoto tutte a sinistra questo perché perché io durante il mio turno quindi dopo che ho eseguito questa azione per la prima volta quindi pago le mie tre monete come ho fatto vedere per avere questa aroma di menta io posso ancora decidere di non terminare il mio turno ma se ho ancora monete a disposizione posso comprare altre tessere aroma da te e questa cosa di far scivolare quindi e avere ancora a disposizione azioni viene fatta in maniera tattica e strategica guardando appunto le altre tessere quindi io magari posso acquistare una tessera apposta per far scivolare altre pagarle quindi meno essendo che scivolando verso sinistra vengono poi a costare meno oppure per creare delle combo e far avvicinare quindi tessere averle adiacenti e comprare con magari un valore minore più tessere di quella aroma che mi possono servire per completare il mio ordine quindi in questo esempio pratico facciamo finta che io dopo aver preso queste tessere appunto come ho fatto vedere sono scivolata a sinistra se avessi avuto ancora disponibilità di monete che in questo caso mi sarebbe servita una moneta argento una moneta di valore 2 se l'avessi avuta come possiamo vedere il mio ordine richiede tre tessere aroma di lavanda poi una di zucchero dalla dispensa che farò vedere come si svolge anche quell'azione io avrei potuto a questo punto ancora pagare una moneta da due e andare a prendere le tre tessere adiacenti che pagava ovviamente due perché l'ultima a destra è nella colonna del 2 quindi andavo a prendere queste mie tre tessere di lavanda che mi sarebbero poi servite per andare a evadere il mio ordine queste ovviamente come detto scivolano a sinistra e a questo punto se io non ho più possibilità di acquistare al mercato vado a rimpiazzare le tessere rimanenti prendendole dal sacchetto quindi una volta riempio di nuovo tutte le righe vuote o colonne e a quel punto il mio turno finisce e passa al giocatore successivo vediamo la seconda azione che visitare la dispensa nella nostra dispensa troviamo questi cinque ingredienti il latte lo zucchero il miele le spezie ciai e la vaniglia noi quando vogliamo svolgere questa azione possiamo andare a prendere o tre di questi ingredienti a nostra scelta tra quelli scoperti appunto nella plancia dispensa oppure andarne pescare tre casualmente dal sacchetto ogni qual volta noi poi vogliamo eseguire questa azione possiamo anche pagare una moneta di rame quindi una moneta di valore 1 per andare a resettare completamente la dispensa quindi togliamo le risorse che ci sono in questa dispensa le andiamo a rimettere nel sacchetto e dopodiché ne andiamo a pescare altre cinque a quel punto possiamo poi decidere quali prendere ora faccio l'esempio nel caso in cui andassi a prendere queste tre ingredienti per esempio li vado a mettere in questo spazio qui in basso della mia casa del tè come possiamo vedere ci sono sei spazi quindi io non potrò mai avere più di sei di questi ingredienti nel caso in cui quando vado a pescare ne ho più di sei devo andare a scartare quelli in eccesso ogni volta che poi il mio turno termina quindi che ho fatto questa azione vado a riempire immediatamente per far iniziare un nuovo turno un altro giocatore pescando dal sacchetto vado a riempire la dispensa con altri ingredienti fino a ripristinarla 5 la terza e ultima azione che io posso svolgere come le avevo elencate all'inizio è prenota e usa abilità i giocatori possono prenotare un cliente dal pool di clienti visibili oppure pescarne uno dalla cima del mazzo nel caso in cui quindi io prendessi dalla clienti visibili lo vado a posizionare accanto alla mia area di gioco non posso mai avere più di tre clienti prenotati quindi un massimo di tre e dal momento in cui ho preso un cliente da quelli visibili vado immediatamente a ripristinare i clienti visibili a questo punto dopo aver prenotato un cliente il giocatore può scegliere di utilizzare una delle tre carte abilità a faccia in su ovviamente elencherò queste abilità a fine tutorial quindi come ho fatto vedere si possono svolgere queste azioni durante i nostri turni fino a che quando ho svolto la mia azione tra queste tre posso decidere alla fine di ogni di queste tre azioni di evadere un mio ordine posso evadere o un ordine delle mie carte quindi quelle nella mia zona di gioco che avevo inizialmente o che ho prenotato oppure anche posso evadere un ordine anche delle carte del pool clienti quindi quelle visibili scoperte qui faccio subito l'esempio come si fa evadere un ordine io della carta che ho raccolto gli ingredienti quindi devono essere necessariamente nella mia casa da te li andrò a mettere all'interno di una tazza da te dove c'è ancora la mancia coperta a quel punto metto gli ingredienti che sono tre lavanda e uno zucchero devo poi obbligatoriamente mettere anche l'ingrediente in base al colore della carta che in questo caso è del mio colore quindi una foglia di tè bianco l'andrò a mettere dentro a questo punto quest'ordine è completato giro il segnalino mancia vado a prendere la relativa moneta che c'è disegnata sopra quindi una moneta da due ora come ho detto ho dovuto mettere un segnalino del mio colore cosa succede però perché io posso anche evadere ordini ovviamente del colore del mio avversario nel caso in cui io andassi a chiedo scusa poi questa carta una volta evasa viene messa girata nella mia zona e ovviamente mi darà i punti vittoria fine partita che ci sono segnati qua dentro quindi andrò a sommare tutte le carte che ho completato tutti gli ordini che ho evaso più ma lo spiegherò alla fine come si fa il conteggio finale comunque l'anticipo più le monete che ho avanzato comunque come stavo dicendo quando io vado a completare un ordine che però del colore del mio avversario dopo che vado a mettere gli ingredienti qua sotto nella tazza da te devo andare a pagare una moneta di rame quindi devo averla necessariamente nella mia riserva vado a pagarla al mio avversario che mi dovrà dare obbligato non può rifiutarsi darmi uno del suo segnalino da te che io andrò a mettere appunto nella tazza dove ho completato l'ordine poi anche qui girerò la carta che mi darà i punti vittoria fine partita quindi si va avanti così come ho detto fino a che non si è completate tutte e due in questo caso siamo in due giocatori quindi tutte e due le tazze da te si andrà quindi a completare quest'ordine si girerà la mancia il giocatore prenderà la mancia e a questo punto terminerà il primo round terminato il round quindi in questo caso il primo round si farà avanzare di un di una casella il termometro quindi passeremo al secondo round si prenderanno i segnalini mancia scoperti si rimescolano insieme agli altri sei e si vanno a posizionare due nuovi segnalini mancia coperti di fronte alle due tazze da te come ho fatto all'inizio poi si prende una nuova carta abilità questa la sceglie il giocatore che doveva giocare successivamente a colui che ha fatto terminare il turno che diventerà quindi il primo giocatore quindi andrà a prendere una carta abilità e sceglierà quale andare a coprire quindi quella carta che sarà coperto ovviamente non sarà più disponibile come abilità ma ci sarà questa nuova il giocatore che ho detto che fa questo diventerà il primo giocatore quindi gli verrà dato il segnalino primo giocatore facciamo finta che il round l'ha finito questo che era il primo giocatore diventerà ovviamente in senso orario ora siamo in due diventerà questo giocatore primo giocatore poi cosa si fa si tolgono tutte le prime tessere della prima colonna si fanno scivolare verso sinistra tutte le altre e se ne vanno a posizionare tre nuove al fondo di ogni fila a questo punto siamo pronti per iniziare un nuovo round che come ho detto partirà dal primo giocatore si svolgeranno di nuovo tutte queste azioni finché non si faranno non si evaderanno di nuovo due ordini ovviamente qui si va sempre a ripristinare dobbiamo avere sempre quattro carte scoperte si va a fino a che appunto non abbiamo evaso due ordini finisce il round e si arriva fino a terminare il quinto round a quel punto il gioco termina importante però sapere che quando il gioco termina quindi alla fine del quinto round quando un giocatore completa evade l'ultima tazza da te quindi in questo caso i due giocatori due bisogna però fare lo stesso numero di turni quindi nel caso in cui è il primo giocatore a completare l'ultima evadere l'ultimo ordine giocherà ancora secondo in maniera da avere appunto lo stesso numero di turni potrà eventualmente evadere anche egli un ordine quindi prendere punti dalla carta ordine che evade ma ovviamente non riceverà il bonus del segnalino mancio in quanto ovviamente saranno stati tutti e due già girati si passa quindi al conteggio dei punti finali che come avevo anticipato e si fa la somma delle carte dei punti degli ordini che ho evaso quindi dal totale di questi punti qui più i punti dei soldi che ho avanzato quindi 2 3 4 5 in base a quante monete ho avanzato avrò anche quei punti la somma sarà il mio totale e ovviamente il giocatore con più punti sarà il vincitore in caso ci fosse un pareggio vince la persona con il minor numero di carte clienti soddisfatte se si dovesse essere ancora in parità vince la persona con più soldi se ancora si è in pareggio la vittoria è condivisa come vi ho detto ora vi mostrerò gli effetti delle carte abilità che posso utilizzare quando svolgo la terza azione che prenota e usa abilità quindi quando prenoto una carta dal pool dei clienti allora la prima carta abilità è questa in cui mi permette di effettuare gratuitamente un acquisto con moneta in rame o in argento al mercato quindi io posso tranquillamente acquistare gratuitamente dalla prima seconda o terza colonna la seconda carta abilità è questa in cui posso vendere una tessera a roma per una moneta d'argento quindi una tessera roma che ho nella mia casa da te posso vendere ricevere una moneta d'argento la terza tessera è questa che mi permette di pescare e mettere su questa carta tre tessere dal sacchetto a roma del tè e a questo punto posso scambiare le tessere di questa carta con quelle della mia casa del tè abbiamo poi la quarta carta di abilità che quando si evade un ordine del cliente in questo turno il giocatore riceve una moneta d'oro di mancia la quinta carta di abilità è questa qui che il in cui il giocatore sceglie un tipo di tessera a roma nel mercato da resettare immediatamente quindi ne prende una la mette nel sacchetto ne pesca una nuova poi abbiamo quest'altra carta abilità qui in cui il giocatore può evadere un ordine del cliente in questo turno usando un articolo dispensa in meno quest'altra carta qui invece ci permette di il giocatore può scambiare fino a due articoli dalla dispensa della propria casa da te con quelli sulla plancia dispensa quindi faccio uno scambio dalla mia casa del tè alla dispensa di due articoli l'ultima carta di abilità è questa in cui il giocatore può prendere gratuitamente un articolo dalla plancia dispensa siamo quindi giunti alla fine anche di questo tutorial io come sempre spero di avervi aiutato a conoscere questo gioco a capirne le regole giusto così da darvi un'idea del del gioco di come si svolge il gioco e come sempre vi ringrazio di cuore per aver guardato il mio video e auguro a tutti buon gioco